Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a Terrazza Milan, benvenuti da Milan.soccer, il Milan in tasca. Dunque oggi abbiamo voluto intitolare Villaggio Italia. Perché Villaggio Italia? Ieri si è conclusa la partita o la serie di partite della Nazionale Italiana per la qualificazione ai mondiali e diciamo come recitava un vecchio slogan dell'Ottavo Nano, una trasmissione satirica che andava in onda sulla Rai, ecco intanto la valletta che anche oggi sicuramente non vorrà salire e non vorrà farsi vedere, comunque come recitava questo slogan prendendo un po' in giro il partito allora di Forza Italia, la Casa delle Libertà, quindi questa coalizione che diceva lo slogan la Casa delle Libertà e essendo un programma satirico riproponeva la stessa cosa, inversione, facciamo un po' come cazzo ci pare. Era un programma satirico, noi qui non facciamo politica, chi se ne frega, ma mi è venuto in mente questo slogan perché proprio Villaggio Italia, questa nazionale italiana che prima detta delle regole, chi viene espulso la settimana prima non può giocare con la nazionale e infatti Zaniolo è andato, tra l'altro si è anche infortunato, però ragazzo serio è rimasto a farsi curare con l'accordo con la Roma e invece altri per motivi personali non entriamo nel merito, altri come premio, premio vacanza, premio vacanza, quindi diciamo che i campionati tra chi non è voluto andare, tra chi è andato, poi ha detto sì ma dai finché fingiamo un infortunio come il caso di Immobile che dunque come dicevo ieri ne abbiamo di peletti bianchi per capire che probabilmente si trattava di un giorno in più di riposo e quindi sicuramente stando alle notizie che ci arrivano, sicuramente scenderà in campo in Milan-Lazio, quindi se rivedete il video di ieri abbiamo detto non giocherà per un infortunio ma a noi ci puzza molto questo infortunio e infatti faceva bene, faceva bene, faceva bene a puzzarci perché non trattava altro, non si trattava altro che un piccolo affaticamento, quindi dice che ci sto a fare io qui, a fare il gruppo, a fare panchina e quindi se ne è tornata a Roma, così come Sensi, Sensi dell'Inter, quindi diciamo ecco la valletta è arrivata, adesso la facciamo vedere però la valletta perché le vallette vanno sempre fatte vedere, eccola la nostra valletta e quindi stiamo parlando della nazionale italiana che tu ieri hai provato a vedere i primi tre minuti, poi ti sei addormentato, hai dormito fino a stamattina, bene, il tuo ruolo è fondamentale, vuoi un po' di te? Caffè Milan? Caffè Milan non interessa, Caffè Milan, interessa Caffè Milan? Non interessa, bene quindi abbiamo deciso di intitolare Villaggio Italia perché oggettivamente ci sembra più un villaggio turistico dove chi viene, chi va, arrivi, partenze e questo oggettivamente falsa un pochettino le regole del campionato. Seconda informazione, sulla nostra pagina Facebook potrete trovare la nuova maglia del Milan, non del campionato, non quella ufficiale, ma è molto carina, è una maglia proposta dalla Puma e street football, quindi ci faceva piacere condividere. Niente di commerciale, noi non facciamo promozioni, non facciamo spot, l'abbiamo vista, ci è piaciuta e vogliamo sapere cosa ne pensate, quindi potete non acquistarla tranquillamente o potete acquistarla tranquillamente se vi piace. Volevo però tornare a fare un passo indietro alla nazionale italiana. Ieri finalmente è arrivato Calabria, è arrivato Calabria nazionale, tra l'altro lo vedo sempre più sicuro, sempre più attento, però la novità non sta tanto nel fatto che Calabria sia nazionale, quanto piuttosto sta nel fatto che Mancini l'ha schierato nella posizione che fu di Paolo, cioè come terzino sinistro. Ora, a parte il fatto che non ha sfigurato, ha giocato bene, eccetera, eccetera, nonostante che poi tutti necessitino di esaltare bastoni. Ha giocato bene, mi chiedo se sta nazionale, a parte Spinazzola che si è fatto male o adesso non mi viene l'altro nome. Di terzini, come diceva anche il cronista, a sinistra abbiamo anche Florenzi e appunto Calabria. Così, la butto lì, in Italia su quattro terzini sinistri della nazionale, uno gravemente infortunato e l'altro ne abbiamo tre, quindi due sono del Milan. Punto interrogativo. E questo è quello che oggettivamente ci lascia un po' perplessi. Oggi parliamo...